Due miliardi di euro depositati su un conto a Londra e rientrati in Italia con lo scudo fiscale e poi i presunti premi in denaro ai manager per le operazioni sui derivati. Sarebbero queste le piste che la blindatissima procura senese starebbe seguendo in queste ore nell'inchiesta sul Monte dei Paschi. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Repubblica, i nove miliardi con cui Monte dei Paschi acquistò Anton Beneta furono pagati in due tranche su due conti diversi. Sette miliardi direttamente agli spagnoli del Banco di Santander, altri due su un conto londinese, sempre nella disponibilità di Santander. Ma perché pagare 9 miliardi di euro una banca che era pronta per essere venduta a 7? Un'anomalia che diventa un sospetto. Perché, scrive Repubblica, i magistrati avrebbero fatto 2 più 2 e individuato in quei 2 miliardi una tangente. Se così fosse, la domanda sarebbe per chi era quella tangente. E poi c'è un secondo fronte, è un fascicolo sull'operazione Alexandria, che era stato già aperto dalla procura di Milano ed è arrivato ora a Siena. L'ipotesi di reato è appropriazione in debita e truffa. Per i magistrati, alcuni manager potrebbero aver intascato un premio in denaro per quell'operazione che ha causato una perdita da almeno 220 milioni di euro al Monte dei Paschi, trascinandolo nella bufera.